La ragione per cui ho sparato questo pezzo è perché questo pezzo io lo odiavo. Io ritengo che le radici siano verso il basso, che proprio attivano agli infari. Ora adesso lo suono ad memoria. Certo sono brano di giocare. E dici degli cavallieri che sono mosso su un dazio con la dena qui. Ce la mettono brutta. E poi c'erano le marce, ecco perché sono anche i pezzi di odiavo. E poi c'erano timidissimo, suonavo praticamente l'oppo. E ci sono in musica le liconi. E anche qui cosa curiosa, alla fine l'autorista vuole. E sono sicuro che qualcuno sospetterà che io l'abbia scritto pensando in architetti. E così. 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 E così non la comunità. E così. Prima di quello che Segretà l' Festival diisen беспungione. ho detto che l'ha venuto assolutamente un po' un bubis grazie a tutti